Vi ritrovate ragazzi sul canale di Gellots Nell'episodio di oggi volevo parlare assieme a voi di due argomenti Il primo era la 1.26, la nuova patch di O4 Ne volevo parlare con voi, quindi sotto nei commenti Oltre a quello che dirò adesso nel video Perché è una di quelle patch che ha creato molta confusione nella community Di solito non ne parlo con un video apposito Do il mio giudizio man mano che gioco Però in questo caso, visto che ci sono stati davvero giudizi molto contrastanti Con gente che l'ha definita la patch peggiore di tutte Strappandosi i capelli, dicendo che non aveva più motivo per giocare O4 Altre che l'hanno definita la migliore di sempre Volevo dare anche la mia opinione E' giusto sentire anche un po' voi cosa ne pensate Perché comunque io ritengo che sia una delle patch più profonde Con i cambiamenti più importanti E quindi secondo me può uscire fuori un bel argomento Un bel discorso Fatto insieme a voi E l'altro argomento di cui volevo parlare invece era la prossima partita Adesso nella seconda parte del video parlerò di alcune nazioni Che secondo me vale la pena giocare Di alcuni esempi che mi avete già detto In particolare uno O di altre idee che mi sono venute in mente Poi però aspetterò comunque i vostri commenti Per fare poi un altro video Dove faremo un sondaggio Con tutte le buone idee che saranno uscite In questo video e nei commenti Per decidere assieme alla partita Che faremo Allora per quanto riguarda la prima parte Per me la patch di per sé non tanto DLC Ma la patch Cioè il DLC è bello Perché questa La parte dei governi è bellissima Ma Solo parlando della patch gratuita Hanno cambiato davvero molto il gioco E' una delle patch dove hanno fatto i cambiamenti più importanti Diciamo che E' una di quelle crocevia secondo me Un po' Forse più importante di Wrath of Man Ha cambiato il gioco Allo stesso modo Di come l'ha cambiato Del CD Ming Diciamo Con L'amministrative efficiency E l'assolutismo Che vabbè Sono stati Uno degli elementi principali Di quella patch Che ha cambiato profondamente il gioco Come i forti In Earth of War Eccetera Hanno cambiato un po' di cose Le note dolenti E mi sono piaciute tutte Le note dolenti però Sono tre Una E che sono quelle comuni Che sapete tutti Allora Il fatto che Non si possono avere Un numero infinito di stati Ma solo il numero che è scritto qui Dopo si arriva ad avere la corruzione E questa non è una cosa così negativa Diciamo la verità Poi La questione è che Sempre nei territori Non sia possibile convertire E questo invece non mi piace E l'ultima cosa Per quanto riguarda le states Il fatto che se si toglie Il territorio A un estates Oltre ad avere L'autonomia a 25 In realtà Adesso non posso toglierla Perché il gioco appena partito Ma se la dovessi togliere Salirebbe a 50 Con 5 di arrest Queste tre cose Non mi piacciono Adesso vi spiego Come Le cambierei E il perché Poi Ditemi voi la vostra Se secondo voi È una stupidata o meno Allora Iniziamo da quella più semplice Secondo me Hanno Fatto bene Fatto molto bene A legare il numero Di territori Alla corruzione È una cosa che ci sta Ma Dipende come giocate Nel senso Se giocate con I Ming O Non lo so Con l'Olanda In mezzo all'Europa Insomma O giocate alti Non ve ne accorgete Neanche di questa cosa Ma Uno che vuole giocare Con Oirat È fregato Uno che vuole giocare Con Chagatai O con La Goldenord È abbastanza fregato Perché Subito Si conquista tantissimo Per esempio Nella partita Con 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 l'Etiopia Non so se vi ricordate Noi all'inizio Abbiamo conquistato Un sacco di territori Inutili Sabbia Del deserto Inutile Abbiamo conquistato La rabbia Che non vale Assolutamente niente Tutti questi territori Fanno numero Perché sono Un territorio Questo qua È un territorio Questo qua Ma non valgono Assolutamente nulla Questo è un territorio Questo è un territorio Ma nessuno li statalizza Questi Fanno schifo E nella partita Con l'Etiopia Ne abbiamo scelti Proprio alcuni Per esempio Nella partita Con il Villand Idem Nella partita Con la Persia No Siamo partiti In una zona ricca Quindi li ho statalizzati Quasi tutti Subito E poi Dopo Non l'ho più fatto Anche se abbiamo conquistato Zone ricche in India La maggior parte Degli stati Erano qua Perché comunque Questa è una zona Molto ricca E il mio core Economico iniziale Era in una zona ricca Quindi Ho potuto mettere Immediatamente Gli stati Perché questi sono stati Con tanto Development E oltre che il development È un'altra cosa Da guardare sempre Quando si fa uno stato I beni prodotti Cioè qua Cavolo ragazzi Devo dirvi che è un buono stato Questo È tutta seta E Non lo so Capite Quindi Purtroppo È un cambiamento Che secondo me Non è ben Scalabile Nel gioco Cioè Non funziona Tanto bene Perché Per alcuni stati Il cambiamento Non si sente Cioè nella partita Con la Persia Non ce ne saremmo accorti Sin tanto che Non sono diventato grande Così Ma a quel punto Non me ne sarebbe fregato Comunque niente Cioè nella partita Con la Persia Per esempio Parlo delle mie partite Per Chi le ha seguite Insomma Sa che cosa ho fatto Non Non avremmo subito Praticamente Nessun tipo di danno Nessuno Perché Ho iniziato piano L'espansione Abbiamo costruito Giocando alto All'inizio In una zona Di mondo Molto molto ricca Con alto development E buoni prodotti E buoni beni prodotti Quindi Quanto sono diventato enorme Non me ne fregava Assolutamente più nulla Dei soldi Cioè avevamo conquistato L'India La Cina L'Indonesia Ma chi se ne frega Perché Qual è il punto È che Tu puoi mettermi Tutta la corruzione Che vuoi Che in realtà E' cappata a 0,80 Ma se io sono super ricco Non me ne frega assolutamente niente Cioè In una partita Come quella Con la Persia Perché partivo in Persia Arrivare ad avere A fine partita Dover pagare la corruzione Al massimo Praticamente Scegliamo uno stato Se no non posso fare niente Minga qual è Debug Node Mnmg Tag Mnmg Tiè In una partita Dove io voglio Pagarmi la corruzione Al massimo E questa Mi costa Adesso Come vedete Costa 25 Se all'inizio Partita Non me lo posso Permettere Perché adesso La sto abbassando Del massimo Che mi è permesso Ovvero uno Vedete Root out Corruption Che è il massimo Il cap di questa barra È meno uno E il massimo Negativo Di questo Malus Qui Se si arriva ad avere Più territori Del numero massimo Di stati È 08 Quindi di per sé Uno può tenere La corruzione Sempre a zero Perché tra Il fatto che paga Le tech Avanti Le policy Che ci sono Fatte apposta Eccetera Eccetera Uno non ha problemi Se uno gioca Con una religione Musulmana Per esempio Tag tour Ha dei tasti Bellissimi Per quanto riguarda La religione E può abbassarsi La corruzione È una figata Ma il punto è questo Se Sei uno stato Con una zona Iniziale Economica Forte Questo malus Che hanno voluto Inserire Non serve a niente Non tocca Minimamente La partita Se sei uno stato Che parte In una zona Povera Questa Villand La Polonia O Un'orda Sei letteralmente Finito Non puoi giocare Quindi Non funziona bene Perché È troppo diverso È vero che Ovviamente È più facile Giocare in Persia E conquistare Quello che abbiamo conquistato Che giocare in Uzbek Sono d'accordo Però adesso È troppo più facile Cioè Non è giusto Che ci sia questa differenza Io risolverei Questo problema Rendendo il malus Scalabile Nel senso che Attualmente Sia che Io conquisto Più di 18 territori Nel 1444 Che io lo faccia Nel 1820 Ho sempre un malus Di 0.80 Però Secondo me È questo il male Dovrebbero fare Che Il malus Varia Secondo delle ere Magari O a seconda Di alcune date O a seconda Delle tech Che danno Amministrative efficiency Per esempio Questo potrebbe essere Un modo per scalare Il malus Ovvero Per esempio Questo l'ho detto Anche in un post Su facebook Non sulla mia pagina Sul gruppo di Europa Universalis 4 Italia Potrebbero fare Che da Tech 3 Tech 0 Insomma Due partite Partite A tech 16 Avete un malus Di Massimo Di corruzione Di 0.20 Qualsiasi cosa Voi conquistiate Poi Dalla 17 Alla 23 0.40 Dalla 23 Alla 27 0.60 Dopo la 27 0.80 Secondo me Questo può essere Un'idea Perché Purtroppo Per alcune nazioni Ora Giocare larghi È Troppo È impossibile Perché Nel senso Io con l'Etiopia Posso anche Iniziare a corezzare Tutta sta roba Ma è una zona È una roba Che non vale niente Ci sono dei Beni che fanno schifo Se hai tolto l'oro E il caffè Qua fa tutto Schifo Fa tutto schifo Anche l'incenso Vale poco All'inizio del gioco Quindi Non riuscirò mai Ad essere forte In una zona Dove C'è Territori che fanno schifo Come questi Qua c'è un bel po' di oro Però tipo qua Qua non c'è niente Io non vado a prendere Pochi territori Li faccio crescere Devo giocare Sulla quantità Di territori che ho E hanno reso Questa cosa Purtroppo impossibile Se invece io Inizio in Persia A me non me ne frega niente Di iniziare a conquistare A destra e manca Io mi prendo Mi faccio diventare La Persia Una powerhouse Economica A quel punto Posso conquistarmi Il pianeta Perché tanto La corruzione Me la pago Senza problemi Invece Inizio partita Non si riesce A fare questa cosa Partendo In alcune Determinate zone Del mondo Quindi Secondo me Considerando Che all'inizio Nessuno Ha un numero Di stati Troppo alto Ma magari Già Con l'Etiopia Non lo so Adesso In 50 anni Ne avevamo Più di quanti Potevamo averne In 50 anni Eravamo già 40 stati C'evo Con questa Tutta sta parte Inutile Cioè Che non Aveva dentro Nulla Ma non Posso Nel 1510 Pagarmi la corruzione A Quasi al massimo Non ho La possibilità Di avere già Costruito In 50 anni La base Economica Necessaria Per pagarmi Una corruzione Così alta Quindi Secondo me Dovrebbero rendere Questo malus Che sacrosanto Secondo me Ci sta Però scalabile Nel tempo Questa Secondo me Cioè Questo è quello Che penso io Poi Magari Ho capito male Non lo so Ditemi voi Cosa ne pensate Poi Tornando invece In Ming Tag MNG Mamma mia Allora Tag MNG Ok Ce l'ho fatta L'altro malus Di cui volevo parlare Era la religione Ecco allora Questa a me non piace Per niente Perché EU4 è sempre stato Un gioco Dove tu potevi fare Esattamente Quello che volevi Potevo decidere Con Ming Anche se la cosa migliore È Prendere i tributari Conquistare Un tot di zone Un po' alla volta Fare vassallo Potevo decidere Di Giocare male E di conquistare Tutto Senza Uccidere i tributari E andare dritto per dritto Alla conquista Di Parigi Ok Ovviamente Questo mi avrebbe Causato Avere questo numero A zero E quindi Perdere ogni battaglia Ma Chi se ne frega Era quello che volevo fare Perché quel giorno Mi ero bevuto Sei litri di birra Ed ero impazzito E volevo giocare così Anche se era la cosa Sbagliata da fare Ma potevo farlo Il gioco mi puniva Dicendo Guarda che stai facendo Una cagata E perdevo ogni battaglia E questo è il bello di U4 Tu puoi fare quello che vuoi Ma se fai una cosa stupida O poco efficiente Il gioco ti dice Vabbè Cazzi tuoi Adesso le prendi Perché Se porto Ming A zero di mandato Poi attacco Jean Pur E Jean Pur Mi conquista Teoricamente Però ecco Il discorso è questo Invece Con l'ultimo cambio Che hanno fatto Purtroppo Hanno messo una cosa Che non si può A girare Ovvero Hanno reso Inconvertibili Alcune zone Per esempio Qua abbiamo Questo che è un territorio Con zone animiste Vedete Io non posso assolutamente Convertirlo Non c'è possibilità Considerando poi Che C'è un modo Per convertirlo Che come ho detto Nell'altro video In quello cui Abbiamo parlato Di tutti I cambiamenti Della patch C'è il modo Di convertirlo Che significa Dare il territorio A un vassallo Che lo statalizza Per te E o te lo converte Addirittura O tu puoi Attraverso il tastino magico Vediamo un po' Proviamo Vabbè Insomma lo sapete Qua la conversione Puoi anche convertire I subjects Con questo tastino qua Che però dovete avere Il DLC Crumble Of civilization Come cacchio si dice In inglese Vabbè Culla della civiltà Quello della patch Della persi Insomma Se avete Quel DLC Fate un vassallo Lui statalizza Di sicuro Perché un vassallo Non lo farete mai Che ha più territori Che stati Cioè Datevi una regolata Insomma Non fatelo troppo grosso E cosa succede? Potete convertire lui Ok? Con questo tastino Vi esce fuori La sua provincia E voi la convertite Col vostro missionario E fin lì Dice Il problema Non si è a posto È così Però Questo secondo me Non funziona Secondo me Avrebbe dovuto Darti comunque La possibilità Di convertire I tuoi territori Esempio Lampante Ming Iniziamo la partita Nel 1444 Ok che Ming Ha una religione Dove può Armonizzare Le altre fedi Quindi in realtà È l'esempio più sbagliato Perché a lui Non gliene frega niente Di convertire Ma Io parto con Ming Nel Nel 1444 E Ho già dei territori Perché Ming Ha un sacco Ming ha un sacco Di territori Parte già con In totale Fammi vedere qua Delle cacchio sei 29 territori Di cui 20 sono stati 9 sono territori E il povero Ming È vero che lui Non deve convertire Perché col confucionesimo Dei fare un'altra cosa Ma chi se ne frega Io sono Un giocatore Che vuole giocare male Voglio giocare col confucionesimo One fate Perché mi va di fare così Io A meno che non smembro Il mio stesso stato Perché Dovrei far così Quindi creo il vassallo Shu Non ho possibilità Non ho possibilità Alcuna Di convertire Questa provincia No perché è già giusta Ma questa qua Al confucionesimo Non posso Non si può più È vietato È così Cioè O rilascio un vassallo Che in questa cosa Non sarebbe Shu Ma sarebbe Ji O Yi Come cacchio si legge in cinese E E basta Cioè L'unica cosa che posso fare È questa Rilasciare un vassallo Perché di per me Ming Non potrà mai Convertire questa E voi direte Non è vero Galloz Aumenti di tech E puoi convertirti Questa zona qua È assolutamente vero Perché aumentando di tech Mi dà dei territori in più Ma perché sono obbligato A prendere un territorio Del genere Quando magari Quando avrò la prossima tech Per dire Avrò conquistato la Corea E posso statalizzare Questo O questo Che preferisco Perché è più ricco Perché devo fare questa scelta Diseconomica Per me è sbagliato Allora Secondo me Anche in questo caso La soluzione potrebbe essere Permettere di convertire Sempre Tutto Ogni singola cosa Però Ragionare in questo modo Fare anche qua Un bonus scalare Ovvero Io sono lo stato Ming Sono qua Pechino La capitale è Pechino No non mi ricordo mai Ninjang Le chiacchiate La tua capitale Ming È Akaton Va bene Ok Non me lo ricordavo Comunque Sono qua Nella mia Akaton E dico Cacchio La mia provincia Confinante Non la controllo Per niente Perché non me ne frega nulla Cioè Akaton Ho il 100% Del controllo Della situazione In tutta Akaton Qua di fianco Per qualche motivo Ho il 31% Anzi Era già Era già più alto Qua ho il 31% Di autonomia Vuol dire che lascia un po' La gente fare quello che vuole E qua nel territorio Ho il 75% Ma L'ho appena conquistato Non sono ancora nell'età Dall'assolutismo E decido che ho paura Dei ribelli Quindi dico al territorio Fai un po' quel cacchio Che vuoi A questo punto Vedete che c'è una differenza Di autonomia Pazzesca No? Qua c'è lo 0% Qua il 31 Qua il 100 E qua il 75 Io farei così Se io sono L'imperatore Che ho il 100% Del controllo Di uno stato Posso convertire A chi cacchio voglio Ok? Perché ho il controllo Completo dello stato Se invece io Non ho Controllo Perché è mio Di nome Ma ha autonomia 100 Quindi io di Qua non prendo Assolutamente nulla Prendo un po' di Trade power E basta Allora Non ho possibilità Di convertirlo Perché la gente dice Sì certo Siamo cinesi Dei Ming Ma in realtà Non so neanche Come si chiama L'imperatore Non lo vedo mai C'è il 100% Di autonomia Eccetera eccetera Tutto questo Teatrino Per dire Che secondo me Dovrebbero legare La possibilità Di convertire Anzi La capacità Di convertire Ovvero Questo numerino Qui Che su ogni provincia C'è Vai qua Ti dice 83 mesi Perché tu hai Una base Di 2 Di potenza Non è una cultura Accettata Quindi è Meno 2 Poi Gli animisti Sono molto facili Da convertire Quindi è ancora Un più 2 E in totale Quella zona lì Sembra che abbia 8 di development E quindi di conseguenza È 08 Ok Cioè Un meno 08 Quindi La tua forza totale È 1,2 A questo punto Puoi convertirla Con una forza Di 1,2 Ecco Io lavorerei Su questi numerini Qua Per esempio Se hai lo 0% Di autonomia Non hai Nessun malus O magari Da 0 a 20 In generale Non hai nessun malus E poi fai Da 25 in su Ecco Da 25 in su Puoi fare Dei malus scalabili Che magari Vanno Non lo so Fino al 6% Che è tantissimo Di malus Quando hai Il 100% Di autonomia Quindi Se io sono Un copto O un ortodosso E voglio giocare Per fare One fate Ho le due religioni Più potenti In assoluto Per le conversioni Che sono questi due Che ho appena detto Allora ce la faccio Lo stesso Perché arrivo A una potenza Di conversione Del 14% E anche i territori Con Con 100% Di autonomia Che mi dai Che sono Di religione Ortodossa Io sono copto Quindi 100% Di autonomia Facciamo un 6% Di malus Perché c'è L'autonomia Al 100% Poi puoi fare Non lo so Autonomia Al 50% 3% Di malus Eccetera Comunque Un malus Che scala Con l'autonomia Ovviamente Perché ho Meno controllo Dello stato E quindi Di conseguenza È più difficile Mandare missionari Cioè ci sta Come ragionamento Secondo me Io lo legherei a quello Però Se vuoi fare Una religione Molto potente Nella conversione Puoi farlo Lo stesso Convertire lo stesso Se invece Hai scelto Una religione Che non è abile Nei convertire Cavoli tuoi Devi comunque Usare i vassalli Però Mi devi dare Comunque La possibilità In maniera Molto Difficile Di convertire Lo stesso Cioè un territorio Con il 75% Di autonomia Potrebbe avere Un malus Del 4% Quindi un territorio Base Che a meno che Non vada a prendere Col dlc Questa qua Esattamente questa Regional representation Che mi abbassa Da 75 A 65% Avrei un malus Scalabile Che magari Al 100% È il 5% Di malus O il 6% E al 75% È il 4% Per dire Meno 10% Di autonomia Quindi questo 65% qua Che si avrebbe In ogni territorio Sarebbe più facile Convertire Uno poi si può fare Questi calcoli Quindi io Avrei reso Il non poter Convertire i territori Scalabile Sull'autonomia Perché di per sé Un territorio Ha già 75% Di autonomia Quindi più facile Di così Lo prendi E lo converti Però non ce la fai Perché Non hai abbastanza potere Perché hai Lasciato una libertà Del 75% A quelle persone E quindi Non vogliono È più difficile Che riesci a convertire Io avrei Fatto un malus Scalabile In questo modo Quindi se Conquisto E alzo L'autonomia Ovunque Perché non voglio Saperne dei ribelli Ta Non ce la fai mai Convertire Perché Hai fatto questa cosa Hai dei territori E lì Hai la scelta Che è Europa Universale S4 Avere la scelta Lo rilascio Sotto forma di Vassallo Lo converto come Vassallo O Vado io Dritto per dritto Perché sono Un ortodosso Con la pentarchia Le idee religiose Le policy E tutto quello Che ci volete aggiungere E me ne frego le palle Se qua c'è scritto Malus A convertire Meno 14% Perché io sono Grossissimo E converto lo stesso Uno Poi può fare La partita che vuole Ma Avrebbe la possibilità Di farlo Mentre ora Ragazzi Ve l'ho detto Qua O rilasciate un vassallo O Come Ming Questa zona qua Non la potete convertire Mai O Vabbè Sì La tech più alta Potete mettere un territorio qua Ma siete obbligati A far così Cioè il gioco Prima ti dava più possibilità Quindi secondo me Ci sta Tanto il fatto che Si è più difficile Convertire È giusto Cioè è una cosa Che ci sta Perché aumenta Un po' la difficoltà E ti obbliga A giocare in maniera Diversa Non puoi fare più La palla di neve Che Aumenta sempre più Senza neanche un freno Questo è un bel freno Ma l'avrei messo Scalabile Nel senso che In realtà Puoi farlo comunque Ma diventa molto difficile Mentre adesso Hanno detto direttamente Così Hanno usato Una mannaia Hanno detto Bah Da adesso Non si può più Fine È così È così Quindi Il bonus Il malus Uno Dei territori Cioè Della corruzione Se troppo territori E della religione Io li avrei resi Entrambi scalabili Di per sé Mi piace tantissimo L'idea Che c'è dietro Secondo me è giusta Ma Li avrei resi Più accessibili Cioè Uno Ha il costo Che è troppo alto All'inizio Soprattutto per alcuni stati L'altro invece Non è scalabile Nel tempo Cioè È troppo Tassativo Sarebbe più bello Se fosse Molto difficile Convertire Ma comunque Possibile E ripeto Questo è il mio punto di vista Sono davvero curioso Di sapere Cosa ne pensate voi Nei commenti L'ultimo malus Cioè Io lo chiamo malus Ma sono le cose negative Di questa patch Secondo me Tutto il resto Ripeto È una figata Cioè Ragazzi Ne ho messo la mappa Qua non so se ce l'ho ancora Quella delle Questa Quella delle tregue È una figata Poi ci sono i monsoni Cioè Mi piace davvero tanto Qua c'è da mettere Per esempio La mappa del clima Ora è importantissima Vieni qui Clima 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 Perché Per esempio Se dovessimo mai giocare qua Qua abbiamo sia l'inverno Che i monsoni Quindi se ci attaccano Su queste montagne È una figata Idee difensive Forte di rollotto In montagna E qua non passa più nessuno Cioè proprio muoiono Salgono sopra Perdono l'8% Di attrition Vabbè Comunque Non perdiamo Perdiamoci in chiacchiere Quello che non mi piace Ora delle nuove states Che sono molto più belle di prima In generale È tutto più bello di prima Tranne Che capisco il perché L'abbiano reso Più punitivo Ma secondo me L'hanno reso troppo punitivo L'ultima cosa È il fatto che Se si toglie con states Si aumenta Del E qua dovevo già giocare un anno Però un po' tanto Per farvi vedere questo Si aumenta Del Del 25% L'autonomia Però O hanno fatto mali conti O se li hanno fatti bene E così è inteso Secondo me è sbagliato Non aumenta Del 25% Su un territorio base Per esempio Io qua do questo territorio qua A Cleo L'autonomia sale al 25% Ma L'autonomia Base Del territorio Vi ricordate nelle patch prima Come era Se adesso io la tolgo L'autonomia base Registrata Del territorio È 0 Non è 25% Invece Per come hanno fatto adesso Supponiamo Che questo territorio Abbia Un'autonomia base Di 0 Sia stata data I nobili I nobili L'hanno portata 25% Come era prima Ecco ora io la tolgo E guardate cosa mi dice Che vabbè Si abbassa Tutta la questione qua Che L'influenza Sulla provincia Sale al 50% Ecco questo È il numero Che mi dà più fastidio E che sale L'arrest di 5 Allora L'arrest di 5 Ci sta Magari è un po' altina Possono Lavorare sui numeri Ma Ci sta 5 Perché adesso Cioè hanno voluto Cambiare le states Tanto Adesso vi spiego Tutto il ragionamento Volevo fare Ci sta Che sia Chi ci sia Cioè in realtà Questi due numeri qua Sono Hanno lo stesso identico problema Questa magari Sono troppo alti In generale sono troppo alti Ora vi spiego il motivo Allora Qua però È al 29 Allora Forse sapete Che l'hanno già sistemata Perché non sto giocando Con la 1.26 Ma con la 1.26.1 Che è Che è Una patch beta Vediamo 33 Perché 33 Perché 33 Allora 33 Ma non mi dice Perché è così Cioè non c'è il motivo Per il quale È scesa 33 Non capisco Allora ci sta Allora ci sta Allora Vediamo questo Questo è 0 Preciso Ok 5 5 un po' altino No vi spiego il ragionamento Poi se stanno modificando questa cosa Perché l'hanno già modificata Nella patch beta 1.26.1 Allora va bene Allora prima Come funzionava le states Io almeno le usavo così Mi andavo qua Dicevo voglio i punti Allora Mi inchino qua Ti do Ti do questo Così ti sale qua Poi Facciamo pure L'ammiraglio 77 Perfetto Adesso mi prendo 150 punti diplomatici Guarda un po' Hai 45% Di qui Questo qua è a 11 In realtà posso abbassartela Te la tolgo Ok Si continuava a girare Dentro e fuori Adesso hanno reso I territori più Cioè in realtà più seria Tutta la questione Perché le states A me piace Interpretare il gioco così Poi magari sbaglio io Però Io come gioco Sono il cacchio di imperatore Dico Ti becchi questa zona qua Per 20 anni Perché sei il mio mercante preferito Allora Il mercante si prende Il 25% di tasse E questa zona qua Che non so più quale fosse Comunque L'autonomia Ha 25 Ma essendo Non più un mercante Cambiamo esempio Un nobile Mi dà anche più Manpower Perché dice Cazzo sono nobile Adesso vi faccio vedere Al mio imperatore I due cavalli Ok Ovviamente Se l'imperatore Come giocavamo prima Ogni Quarto d'ora Durante la stessa giornata Perché mettevo il gioco in pausa E facevo tutti quei cambiamenti Lì dice Ok la do ai nobili Anzi no Me la riprendo La do al clear Aspetta no Me la riprendo La do ancora ai mercanti E invece andate tutte e tre A cagare Me la tengo per me Ovviamente Non aveva molto senso Quindi ci sta questa cosa Che ci sia Comunque un malus Nello scambiare i territori Ma io avrei fatto Circa come per le trade companies Ovvero Che il malus Ha una durata Cioè Devo lasciare Le states Non lo so Almeno vent'anni Che abbia quel territorio lì Ma se gliela tolgo dopo Non succede più niente O comunque Il malus È un pochino più ridotto Però Tutto il discorso Che volevo fare Ha molto meno senso Visto che qua Non sale più a 50 Perché Ora vedete che sale di poco Quindi in realtà Ci sta abbastanza Proviamo a leggere bene Non capisco il motivo Allora Allora Questi qua sono incazzati Togliamo questo E scende la loyalty Se l'influenza Scende di quello lì Una percentuale Ok La percentuale di terra Scende Dal 27 Dal 28 Ok Questo qua Tutta la prima parte Parla di questo E poi non parla Dell'autonomia Non parla minimamente Dell'autonomia del territorio Parla dell'arresto Ma dell'autonomia del territorio Non parla più Ma vedo che sale di un pochino Allora Per quanto riguarda l'autonomia Va bene così Perché ci sta No niente Quindi il terzo punto Non mi voglio esprimere Perché vedo che lo stanno già cambiando Comunque Il discorso era quello Ma se lo stanno già cambiando Basta Invece sul punto 1 O punto 2 Secondo me Dovrebbero lavorare più Su un malus Anche se chiamarlo malus È sbagliato Perché Non è di per sé un malus Ma scalabile Ho parlato per mezz'ora Volevo che questo video Durasse massimo 15 minuti Invece non sarà così Seconda parte Anzi Facciamo una bella cosa Farò un video a parte Solo per le proposte Della Della nuova nazione Perché Non volevo fare un video Troppo lungo Quindi Fermiamoci qua Questo è quello che penso Della 1.26 Farò un video a parte Per quanto riguarda La nuova La nuova serie Quindi Se qualcuno ha scritto I commenti qua sotto Perché si è fermato I primi due secondi Di video Le leggerò lo stesso Ma Darò molto più peso A quelli Nell'altro episodio Nell'altro video Che faremo Parliamo nei commenti Di quello che pensate voi Della 1.26 Sono pronto A discutere con voi GG a tutti